Un biscotto Oreo, questo l'oggetto misterioso del Flash Quiz di ieri. La nostra telespettatrice Antonietta conquista così un buono del valore di 30 euro presso la corte inglese di Polla. Un gioco sempre più avvincente che mette alla prova la curiosità di migliaia di telespettatori ogni giorno. Il gioco di Italia 2 TV ritornerà lunedì prossimo. A tutti i telespettatori che in queste settimane si sono appassionati al Flash Quiz, ricordiamo che da lunedì al venerdì prima dei telegiornali a partire dalle 14 va in onda il nuovo contenitore Vedi, Video e Vinci. Con l'oggetto misterioso del giorno i telespettatori da un particolare dell'oggetto dovranno indovinare di cosa si tratta. Il primo che riuscirà a scoprirlo per aggiudicarsi il premio in palio dovrà inviare immediatamente alla risposta esatta all'indirizzo mail flashquiz-italia2tv.it oppure potrà scrivere sulla pagina Facebook di Flash Quiz. Farà fede la data e l'orario dell'invio della mail o dell'inserimento su Facebook.